ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio parlare con voi dell'extravaganza che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 maggio allora ragazzi io ho intenzione di partecipare al main event che sarà domenica con il mio fidatissimo via che ho preso tipo una settimana fa e dovrei testare un pochino questi giorni allora diciamo che la situazione non è rosia in quanto sì ok il mazzo ce l'ho è accettabile il problema è che mi manca di extra Zeus e Crusadia e quindi sono un po' limitato nelle giocate ma vabbè alla fine chi se ne frega perché vado principalmente per divertirmi visto che non faccio chiamamolo un torneo in real da una vita e mezzo a questa parte perché l'ultima volta che ho fatto un local era ottobre e siamo a maggio quindi diciamo che non sarebbe male tornare a duellare con le carte in mano ovviamente spero sempre che gli eventi real si sblocchino a breve perché sono gasatissimo sinceramente ma vabbè digressioni mia parte allora quali mazzi ci potremmo aspettare almeno domenica ma credo a qualsiasi evento dei due giorni ovviamente credo ci saranno Shadow, Dogmatica e Inboked, Brankids e Dragon Link oltre ai tanti ti uno e mezzo e poi anche suppongo qualcosa di molto casuale quindi per quanto riguarda la side boh devo ancora montarla dovrò farmi un attimo due conti con quello che ho e con quello che posso peccarmi effettivamente comunque ragazzi nel caso foste interessati a partecipare trovate tutte le informazioni sulla pagina facebook e sul sito di The King of Games abbiamo sabato, Attack of the Giant Card, Dueling's Challenge, Speed Duel Costruito, Winamat Costruito e il Winamat Sealed poi domenica invece abbiamo il Main Event e sempre il Winamat Costruito poi cosa molto importante se partecipate a questi eventi potete ottenere una promo esclusiva che viene data solo al torneo massimo se ne possono ottenere tre per persona ovviamente partecipando a tre eventi differenti e io ovviamente da buon collezionista da come potete vedere la voglio assolutamente quindi ragazzi fatemi sapere qua sotto con un commento se parteciperete o meno all'evento e nel caso se ve lo guarderete se volete domenica accetto anche il tifo per chiunque volesse direttifare per me vi ricordo inoltre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social quindi ragazzi state me easy e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video ciao a tutti